Ciao! Benvenuto ad un nuovo audio di Magnetismo Personale. Oggi ti dirò come trovare una ragazza in poco tempo anche se sei uno sfigato. Mettiti comodo perché in questo audio vedremo tutto quello che devi sapere per trovare una ragazza in poco tempo, anche se sei uno sfigato, ti reputi brutto oppure semplicemente sfortunato in amore. Questo è probabilmente l'audio più importante che tu abbia mai ascoltato fino ad oggi. Mettendo in pratica i concetti che vedremo in questo audio, potrai infatti attrarre a te la donna che desideri, anche se fino ad oggi è stato tutto un fallimento. Ma prima di farlo, ti ricordo che se ci stai ascoltando da YouTube, puoi iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti, oppure di seguire i nostri profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Ma bando alle ciance, vediamo innanzitutto quali sono gli errori più comuni che gli uomini fanno quando cercano una ragazza, che probabilmente anche tu in questo momento stai facendo, per poi passare al pratico su come trovare una ragazza. Nel corso degli anni mi è capitato di rapportarmi con centinaia di uomini, e soprattutto durante le mie consulenze, mi è capitato di riconoscere una serie di errori che sono diffusissimi nel mondo maschile quando si cerca di trovare una fidanzata. Proprio per questo motivo, la prima cosa che devi fare ora anche tu è sicuramente quella di riconoscere eventuali errori che anche tu stai facendo e iniziare a lavorare per cambiare direzione. Errore numero 1. Scrivere a raffica a donne sui social. Viviamo nell'era del digitale, dove le nuove relazioni nascono principalmente online. Effettivamente i social network e le app di incontri sono un ottimo strumento per trovare una ragazza, sia per rapporti occasionali che per costruire una relazione duratura nel tempo. Non è un caso che ho dedicato un intero corso su come conoscere le donne tramite i social e le app di incontri, proprio perché al giorno d'oggi non si può ignorare l'importanza di questi strumenti. Tuttavia, affinché questi strumenti siano profittevoli per noi, dobbiamo utilizzarli correttamente. L'errore più comune che un uomo fa sui social è quello di sparare a raffica scrivendo ciao o complimenti sei bellissima o affini a qualunque donne capiti sotto tiro, oppure iniziare a seguire donne random nel disperato tentativo di rimorchiare su Instagram, mettere reazioni alle foto e così via. Insomma, tentare di trovare una ragazza utilizzando lo stesso approccio del pescatore che butta la rete a mare non è sicuramente un approccio che funziona. Oltre a cadere nel ridicolo, ti farà perdere tempo prezioso che potresti investire per studiare le strategie che ti permettono di rendere i tuoi messaggi efficaci e quindi riuscire a ottenere realmente successo utilizzando i social network oppure le app di incontri. A tal proposito, se ancora non lo hai fatto, ti consiglio di scaricare subito il mio manuale su come conoscere balanghe di donne sfruttando gli strumenti digitali. Questo manuale ha già aiutato centinaia di uomini a trasformare il proprio cellulare in una macchina per conoscere donne e sicuramente ti darà gli stessi strumenti affinché tu possa fare lo stesso. Scopri il metodo collaudato per conoscere una valanga di nuove ragazze sui siti di incontri. Scoprirai l'esatto metodo che mi ha permesso di fissare ben 18 nuovi appuntamenti in sole 48 ore. Errore numero 2. Uscire o impegnarsi con donne che non ci interessano pur di non rimanere soli. Un altro errore che più comunemente vedo fare agli uomini che cercano una ragazza è quello di accontentarsi con la prima tizia che capita semplicemente per colmare il vuoto della presenza femminile. Tendenzialmente ho notato che questo errore capita soprattutto al termine di una relazione, quando per sostituire la nostra ex ci mettiamo a fianco una donna che nel profondo del nostro animo sappiamo che non ci interessa più di tanto. La verità è che questo approccio è controproducente per due motivi. Il primo motivo è che stiamo mentendo a noi stessi che questa è la donna che vogliamo realmente nella vita, quando in realtà vogliamo qualcos'altro di migliore o semplicemente di diverso per noi. Il secondo motivo è che essendo impegnati ci precludiamo la possibilità di trovare una ragazza che ci interessa realmente e può fare davvero al caso nostro. Ricorda che seppure tu vuoi sapere come trovare una ragazza, è altrettanto importante sapere che non devi mai farlo per colmare i vuoti che hai nella tua vita. Va benissimo che tu vuoi trovare una ragazza e io di magnetismo personale sono qui per aiutarti in questo, ma è altrettanto fondamentale che tu impari a stare bene da solo. Ed è proprio di questo che parleremo nel terzo errore. Errore numero 3. Cercare una donna come soluzione per completarsi oppure essere felici. Tantissimi uomini credono che una donna al proprio fianco sia la soluzione per completare la propria persona e vivere una vita per sempre felice. Niente di più sbagliato. Anzi, ragionare in questo modo non farà altro che allontanare le donne. Una qualsiasi donna mediamente di valore cerca un uomo che stia già bene da solo e che sia già felice da sé, altrimenti non può mai essere un uomo attraente ai suoi occhi. C'è la tendenza a credere che le donne guardano i soldi, oppure la bellezza in un uomo. Ma non c'è niente di più falso. Si tratta solamente di luoghi comuni da chiacchiere al bar con gli amici. Se te lo dico io, non è per farti cambiare idea oppure per motivarti nel caso in cui tu sia brutto o povero. Semplicemente ogni giorno studio le relazioni interpersonali e ho analizzato centinaia di relazioni tale da avere dati alla mano su cosa funziona o meno in una relazione. In nessun caso, se non in pochissimi casi eccezionali, i soldi oppure la bellezza sono stati elemento predominante in una relazione. Piuttosto, quello che cerca una donna in un uomo è un uomo completo. Cosa vuol dire essere un uomo completo? Lo vedremo proprio nel prossimo paragrafo su cosa devi fare e chi devi diventare per trovare una ragazza facilmente anche se fino ad ora hai sempre fallito. La cosa che devi assolutamente fare ora per riuscire a trovare una ragazza è quello di iniziare a lavorare su te stesso a partire da oggi. Eh, ma una donna mi deve accettare per come sono. Non cambierò mai per una donna. Queste sono le frasi tipiche di obiezione che sento dire puntualmente da chi non riuscirà mai ad avere successo con le donne. Quindi, quando parlo di lavorare su te stesso, non vuol dire che devi snaturare la tua persona. Piuttosto, devi lavorare per migliorarti come persona, affinché tu sia appetibile per le donne e quindi trovare una ragazza sarà la normale conseguenza del fatto che sarai in grado di diventare l'uomo che una donna desidera. Lavorare per migliorarti come persona non ti porterà solamente benefici nelle tue relazioni, bensì ti porterà benefici anche nella tua carriera, nella tua salute, nelle relazioni con gli amici, gli obiettivi nello sport e così via. Andando a lavorare su te stesso, diventerai quello che io chiamo l'uomo magnetico. Anche tu, indipendentemente da dove parti, quali sono state le tue esperienze passate, se sei timido o meno, brutto o bello, puoi arrivare a diventare un magnete per le donne. E ti ripeto, non lo dico per motivarti. Personalmente credo che la motivazione è un bisogno degli uomini deboli, mentre gli uomini che aspirano a diventare di un certo livello non hanno bisogno di motivazione, ma al massimo di una guida da parte di chi ci è già passato prima. Ecco perché ti invito a prendere seriamente le informazioni che stai ascoltando in questo audio, essendo informazioni che sono basate sull'esperienza mia personale, oltre che sull'esperienza delle centinaia di uomini che nel corso degli anni ho avuto modo di seguire. Come diventare un uomo magnetico per attrarre una donna e conquistarla facilmente? Abbiamo visto quindi che per trovare una donna devi diventare un uomo magnetico. Devi diventare, in sostanza, quella tipologia di uomo che una donna desidera, affinché saranno loro a cercare te, e di conseguenza trovare una donna sarà cento volte più semplice di adesso. Dovrai iniziare a lavorare su di te a partire da subito. Inizia già da oggi ad allenarti in palestra. Impara i principi dell'alimentazione e cosa dovresti fare per mettere massa muscolare. Adesso che sei single, hai sicuramente molto più tempo libero di quando sei fidanzato. Allora perché non investire questo tempo libero che hai nell'imparare a fare cose nuove. Ad esempio, nella mia esperienza di oltre cinque anni, quindi da quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale, ho imparato tre nuove lingue. Ho iniziato a guadagnare grazie a internet uno stipendio dieci volte migliore di quello di un operaio medio, e sono riuscito a mettere oltre dieci chili di massa muscolare. La differenza tra il me, il ragazzino brufoloso di provincia di cinque anni fa, solo e senza donne. E il me di adesso, che posso permettermi di uscire con qualsiasi donna, è stato proprio questo cambiamento che ho avuto come conseguenza nel concentrare le mie energie sulla mia crescita. Ho preferito per diversi mesi stare da solo e lavorare su me stesso, per poi attendere il momento giusto per attaccare, questa volta con molte più armi. Ed è così che è successo. Con le armi che ho adesso, faccio molta meno fatica a trovare una ragazza, proprio perché sono loro a venire da me. E in questo momento io utilizzo gli stessi strumenti che in questo momento tu stai utilizzando per trovare una ragazza. Non esistono segreti o trucchi per diventare un uomo magnetico. Piuttosto, esiste un piano che anche tu devi seguire diligentemente al fine di riuscire ad attrarre le donne che desideri con molta meno fatica di adesso. Ho dedicato un intero manuale con strategie e tecniche pratiche che puoi applicare da subito se anche tu vuoi diventare quella tipologia di uomo che qualsiasi donna desidera, diventando una vera e propria calamita capace di attrarre le donne. Ti rivelo il metodo magnetico per attrarre a te qualsiasi donna desideri in poche settimane. E se ti dicessi che dopo aver letto questo manuale e applicato i concetti che ti rivelo, saranno le donne a volerti al loro fianco. Questo è quello che è successo agli oltre 400 uomini che hanno già scaricato questo manuale e messo in pratica queste potenti strategie di miglioramento personale. Probabilmente ti aspettavi dei segreti o dei trucchi su come trovare ragazze. Magari proprio come proposto sugli articoli di blog degli altri guru italiani sulla seduzione. Come ti ho detto, per intelligenza intellettuale, non mi piace raccontare quello che non funziona, oppure raccontarti cose random per ricevere qualche click o like in più sul mio blog. La verità è che tutto gira al tipo di persona che sei capace di diventare. Le donne sono e saranno sempre interessate agli uomini di valore, di cui ti esorto a diventare. Sedurre una donna è come essere in guerra. Secondo te è più facile vincere una guerra combattendo con le stesse armi di tutti gli altri, oppure è più facile vincere avendo a disposizione armi dieci volte più potenti di tutti gli altri. La risposta probabilmente la sai, e quindi adesso sai anche la risposta su come trovare una ragazza. Puoi trovare questo e altri articoli sul nostro blog, e se vuoi, nelle nostre risorse premium, puoi trovare molto altro che può dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse, oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai ascoltando da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai ascoltando da un servizio di streaming audio, come iTunes, Spotify o altri, segui il nostro profilo per poter ascoltare anche altri contenuti interessanti. Ti do appuntamento al prossimo audio. Per oggi è tutto.